Euclide certificazione energetica verifica che le trasmittanze delle strutture opache verticali, delle coperture orizzontali o inclinate, dei pavimenti, dei componenti finestrati e dei vetri rispettino i limiti fissati da normativa. Si accede alle pagine per la verifica delle trasmittanze limite cliccando su relativo pulsante nel gruppo Calcoli e verifiche dell'indice del documento. La verifica trasmittanze è suddivisa in quattro pagine, trasmittanze limite, trasmittanze limite più 30%, trasmittanze divisori e trasmissione solare. I limiti presi come riferimento per la verifica sono quelli imposti da normativa, a meno che non venga abilitata la spunta Usa limiti per detrazioni fiscali nella parte alta della pagina e allora si applicheranno limiti diversi specifici per le detrazioni fiscali. La prima pagina verifica che le trasmittanze degli elementi che compongono l'involucro edilizio non siano superiori alle trasmittanze limite imposte da normativa. La pagina è suddivisa in due parti. Nella zona superiore, intitolata Trasmittanza media strutture e composte, viene confrontata la trasmittanza media delle pareti composte, dei solai composti, con il limite imposto, ottenuta considerando le trasmittanze degli elementi al suo interno, cassonetti, sottofinestre, ponti termici. Le pareti per cui la trasmittanza media supera il limite imposto non sono a norma e vengono evidenziate con un pallino rosso. Nel caso in cui i limiti sono verificati, il pallino sarà di colore verde. Nella parte inferiore, intitolata Trasmittanza strutture ed infissi, vengono prese invece in considerazione le strutture non composte e i componenti finestrati confrontate con i limiti imposti. Anche in questo caso le verifiche con esito negativo saranno evidenziate con un pallino rosso. La seconda pagina, intitolata Trasmittanza limite più 30%, si presenta identica alla prima pagina, ma con i limiti maggiorati del 30%. Anche in questa pagina, eventuali elementi che non rispettino i limiti saranno evidenziati con un pallino rosso. La terza pagina della verifica Trasmittanze, intitolata Trasmittanze divisori, confronta la trasmittanza delle strutture che dividono edifici o unità immobiliari confinanti. Come per le altre pagine, eventuali strutture divisorie che non rispettino tali limiti saranno evidenziati con un pallino rosso. La quarta e ultima pagina, intitolata Trasmissione solare, confronta il valore della trasmissione solare totale, delle chiusure trasparenti verso l'esterno con orientamento est a ovest, passando per sud, in presenza di una schermatura mobile con i valori limiti imposti da normativa. Attenzione, eventualmente per abbassare il valore tra i vari parametri si consiglia di agire sul campo Fattore di riduzione dovuto a tendaggi nel dettaglio dell'elemento disperdente in fisso. Cliccando sul pulsante Stampe all'interno della barra di strumenti, oppure da Home, Modifica Stampe, è possibile visualizzare il menu di tutte le stampe disponibili in euclide certificazione energetica. La funzione Stampa Verifica Trasmittanze genera un report dove vengono comparate le trasmittanze degli elementi che formano l'involucro edilizio con le trasmittanze limite richieste dalla normativa. Viene inoltre stampato, qualora si rientri nei casi previsti, il confronto tra la trasmittanza delle strutture divisorie con altri edifici o unità immobiliari e relativo limite.